buongiorno ragazzi oggi vedremo come passare dal grafico di una funzione che sapete che avete già studiato come passare al grafico della funzione che è la derivata di quella di partenza senza fare dei conti prima di partire da una funzione e disegnare quindi il grafico della sua derivata partiamo a fare delle osservazioni quindi prendiamo quella sopra il disegno della funzione quella sotto quel disegno della derivata e facciamo queste quattro osservazioni sui punti particolari di una funzione i massimi i minimi e i flessi allora prendiamo questa funzione che presenta un massimo in x con 0 che cosa significa che presenta un massimo che la funzione cresce fino al punto x con 0 e poi decresce dopo il punto x con 0 ma che cosa succede alla derivata se la funzione sta crescendo quindi prima del valore x con 0 a sinistra di x con 0 la mia derivata è positiva il coefficiente del angolare delle rette tangenti alla mia funzione è positivo quindi prima del punto x con 0 la mia funzione è positiva dopo il punto x con 0 però la mia funzione derivata deve essere negativa perché quando una funzione scende decresce vuol dire che ha un coefficiente angolare della retta tangente in ogni punto negativo quindi se la mia funzione di partenza presenta un massimo significa che quel punto di massimo per la mia derivata prima è un'intersezione con gli assi e precisamente come in questo caso se la mia funzione sale prima di x con 0 e scende dopo allora la mia funzione derivata è positiva prima di x con 0 ed è negativa dopo consideriamo adesso una funzione che presenta invece un minimo in x con 0 questo significa che prima di x con 0 la mia funzione sta decrescendo quindi tutte le rette tangenti alla funzione nei punti prima di x con 0 hanno coefficiente angolare negativo quindi la mia derivata prima che rappresenta proprio in ogni punto il coefficiente angolare della funzione sarà negativa invece dopo x con 0 la mia funzione sale cresce quindi le rette tangenti alla funzione in ogni punto dopo x con 0 hanno coefficiente angolare positivo e quindi dopo x con 0 nel grafico della mia derivata io devo avere la funzione positiva quindi abbiamo che quando un minimo per una funzione il minimo per una funzione come il massimo è un punto di intersezione con l'asse x e se la funzione prima scende poi sale la mia derivata prima prima è negativa e poi è positiva consideriamo invece adesso una funzione che presenta un punto di flesso ricordiamoci che il punto di flesso è un punto che annulla la derivata seconda ma la derivata seconda di una funzione sarà la derivata prima della derivata prima quindi il punto che annulla la derivata seconda di f di x annulla la derivata prima di f primo e quindi sarà un punto invece estremante per f primo dobbiamo solo capire se è un massimo o un minimo guardiamo un attimo il disegno della curva rosa x con 0 un punto di flesso annulla la derivata seconda e fa cambiare il segno alla derivata seconda la derivata seconda di quella funzione prima di x con 0 è negativa infatti il disegno ha una concavità verso il basso quindi se la derivata seconda della mia funzione f è negativa significa che è negativa la derivata prima e quindi la mia funzione sotto quel disegno verde sta scendendo prima di x con 0 dopo x con 0 nel mio disegno rosa la derivata seconda segno positivo quindi la derivata prima della mia funzione derivata ha segno positivo e quindi la funzione sta salendo stesso discorso ma al contrario lo abbiamo per il quarto disegno nel quarto disegno abbiamo un flesso discendente x con 0 annulla sempre la derivata seconda ma prima di x con 0 la derivata seconda era positiva e quindi la derivata prima della mia funzione verde è positiva e sta quindi salendo il grafico della derivata sta scendendo dopo x con 0 abbiamo chiamato a b c d i punti del grafico rosa quindi della funzione e a primo b primo c primo e d primo i punti della funzione verde quella derivata adesso andiamo a riassumere quello che abbiamo detto aggiungendo anche qualche altro dettaglio per il passaggio dalla funzione alla derivata il massimo nella funzione a quella rosa diventa un'intersezione con gli assi nella funzione di f primo il grafico verde quindi in a primo un minimo per la funzione f nel punto b è diventato un'intersezione con gli assi lo vedete sopra i disegni verdi per la funzione derivata in b primo un punto di flesso ascendente che abbiamo trovato nel punto c nel terzo disegno rosa è diventato un punto di minimo per la sua derivata come vediamo in c primo un flesso discendente per la funzione del punto d è diventato un punto di massimo in d primo per la funzione f primo ancora qualche osservazione se la mia funzione f è una funzione pari il grafico della funzione derivata sarà una funzione dispari se la mia funzione f è una funzione dispari il grafico della funzione derivata sarà pari prima di passare a un esempio abbiate ancora un po di pazienza voglio fare altre due osservazioni e le facciamo graficamente qua di fianco se la mia funzione presenta un asintoto orizzontale significa che si avvicina a una retta di equazione y uguale a un numero ma la funzione derivata quindi avrà un coefficiente angolare nullo perché la derivata di y uguale a k è zero quindi quando la funzione rosa presenta un asintoto orizzontale la mia funzione derivata avrà un asintoto orizzontale di equazione y uguale a zero quando invece la mia funzione rosa la funzione f ha un asintoto obliquo quindi si avvicina e ha un andamento che è simile a una retta di equazione y uguale a k x più q la sua derivata sempre nell'intorno ad infinito avrà un andamento con un coefficiente uguale a k e quindi presenterà un asintoto orizzontale di equazione y uguale a m andiamo finalmente a fare un esempio prendiamo il disegno di una funzione non mi interessa la sua espressione analitica in questo caso per disegnare il grafico della sua derivata disegniamo quindi in rosa questa funzione e la cosa che dobbiamo andare a segnare sono le x dei punti particolari massimi minimi flessi di questa funzione allora m il punto di massimo f1 f2 sono i due punti di flesso il nostro p è il punto di minimo e il nostro q è il punto di massimo tra l'altro assoluto di questi punti ci interessa sapere la scissa quindi le x per poter poi fare il disegno della derivata quindi abbiamo meno 1 il massimo 0 il flesso 1 1 il punto di minimo 2 il punto di flesso e 3 il massimo a questo punto che cosa faccio disegno l'ideale sarebbe farlo subito sotto sotto per me era difficile l'ho fatto di fianco allora facciamo quindi un grafico di fianco e in questo grafico andiamo a segnare le x importanti quindi meno 1 0 1 2 3 precisamente ragioniamo sul punto meno 1 se è un massimo per la mia funzione per le osservazioni fatte prima sarà un'intersezione con gli assi per la mia funzione derivata tracciamo bene la retta e andiamo quindi a decidere il segno della mia funzione derivata prima dove la mia funzione f sale la mia derivata prima sarà positiva perché il coefficiente angolare delle rette tangenti al grafico di f è un coefficiente positivo tracciamo anche le altre rette come abbiamo detto prima x uguale a 1 x uguale a 2 x uguale a 3 e vediamo tra il punto meno 1 e 1 la mia funzione sta decrescendo quindi la mia derivata prima avrà segno negativo e cancello la parte dove non sarà il disegno della funzione derivata tra 1 e 3 la mia funzione sta salendo quindi sarà positivo il grafico della funzione derivata e dopo 3 la mia funzione sta scendendo quindi sarà negativo il segno della derivata a questo punto andiamo a segnare i punti m q e p cioè m 1 p 1 e q 1 saranno delle intersezioni con gli assi perché i massimi e minimi della funzione diventa un cambio disegno per la funzione derivata invece per quanto riguarda f1 e f2 i punti di flesso che annullano la derivata seconda annullano la derivata prima della mia funzione derivata quindi saranno un massimo e un minimo e precisamente un minimo per un flesso discendente e un massimo per un flesso ascendente quindi il disegno della mia funzione derivata avrà un andamento tipo questo non posso però dire niente sulle y del f1 e f2 primo abbiamo dedotto dal grafico di una funzione il grafico della sua derivata adesso andiamo a vedere il contrario come da il grafico di una funzione posso arrivare al grafico della sua primitiva per stabilire se un punto di flesso diventa un massimo e un minimo per la funzione derivata dovete studiare com'è il segno della derivata seconda prima e dopo il punto di flesso vedete che la funzione tra m e f1 la mia funzione di partenza lì sta piangendo ha una concavità verso il basso quindi significa che la derivata seconda è negativa quindi è negativa la derivata prima della mia funzione derivata che quindi sta scendendo tra m1 e f1 al contrario dopo la mia funzione derivata prima sta salendo sta salendo tra f1 primo e p1 perché tra f1 e p la mia derivata seconda era positiva quindi rimane positiva la derivata prima della derivata lo stesso è per il flesso invece tra p e q il segno della derivata seconda della funzione era positivo prima quindi funzione derivata crescente negativo dopo funziona derivata funzione derivata decrescente andiamo adesso invece a vedere come si ricava dal grafico di una funzione il grafico della sua primitiva cioè la funzione finale derivata darà la funzione di partenza esattamente il procedimento inverso disegniamo quindi la funzione f di x lei è il disegno della derivata prima quindi stiamo partendo da il risultato tra virgolette che avevamo invece nell'esercizio prima quindi osserviamo bene questo disegno la mia funzione è positiva fino all'origine quindi significa che la mia primitiva sale fino all'origine la mia funzione di partenza la f è negativa tra 0 e 1 quindi significa che tra 0 e 1 la mia funzione sarà decrescente la mia funzione verde arriva a 1 meno con un coefficiente angolare infinito quindi anche la mia funzione avrà lì un asintoto verticale questo sarà l'andamento prima di 1 dove la funzione derivata non esiste non esiste neanche la funzione primitiva perché ovviamente se non esiste la funzione non esiste neanche la sua derivata adesso osserviamo il grafico che ho fatto dopo e cerchiamo di aggiungere delle osservazioni la mia funzione verde è positiva tra 1 e 2 quindi la mia funzione rosa salirà da 1 a 2 le intersezioni con gli assi l'origine 2 e 4 saranno dei massimi e minimi per la mia funzione rosa e il punto di minimo in 3 della mia funzione verde sarà un flesso per la mia funzione rosa quindi l'intersezione con gli assi del disegno verde sono diventati massimi e minimi per il disegno rosa e invece il punto di minimo per la funzione verde è un flesso per la funzione rosa ecco 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 ecco